Il Papa Ponte Mammo e il Serpentone di Gordiale, il Papa ha scelto un quartiere popoloso di Centocelle, una messa nella parrocchia del Santissimo Saccamento in via Togrestiari, l'incontro con le famiglie, la cresima di una bambina malata e a sua madre, poi l'inaugurazione della Casa della Gioia, una struttura ricavata nel sottotetto della parrocchia che di giorno sarà centro di urno per gli disabili e di notte la casa per i senza fissa di mano. Parla dell'amore, il Pontefice, dice che è farsi carico degli altri perché l'amore, ha detto il Papa, si vede nelle opere, non nelle parole. Non si predica l'angelo con parole, con argomenti, non si predica così. Si predica con vicinanza, con testimonianze, con coerenze. Poi il Papa ha invitato i bambini a lavorare per i genitori e i padri a giocare con i figli. Non è perdere tempo perché i valori si trasmettono giocando. Poi una riflessione sugli anziani, un abbraccio enorme perché il Papa e il mondo li mette nella lista dello scarto dove credisce fino a produce.